Il comune medievale può dunque essere definito un'associazione privata e volontaria, sorta tra i membri di classi sociali diverse in difesa di determinati interessi o diritti e ben presto trasformatasi in un ente pubblico rappresentante la gran parte della cittadinanza. Ovviamente quando parliamo di gran parte della cittadinanza noi non intendiamo la totalità della cittadinanza ma ovviamente la parte diciamo più eminente, la parte più importante dal punto di vista socio-culturale della comunità di appartenenza. Alcune categorie di persone infatti come gli ebrei o le donne oppure certi più umili di operai in urla tenenti pur risiedendo all'interno del comune non ottennero mai il diritto di partecipare in maniera attiva alla vita politica cioè alla direzione del comune. Particolari furono i rapporti tra i comuni e il contato, ovviamente noi dobbiamo immaginare questi comuni come circondati da ampie zone contative, zone rurali, confinanti anche con ampie zone bustive. Lo sviluppo dei comuni contribuì a eliminare il feudalesimo, non solo entro le mura dei centri urbani, ma anche nelle campagne circostanti. La presenza dei produttori che imponevano le tasse e i dati, i dati di doganali, cioè le tariffe da pagare sulla circolazione delle merci, ma anche sulla circolazione degli uomini, rappresentava un ostacolo, un documento, un problema anche, un limite allo sviluppo dei commerci e dunque anche alla libertà di movimento dei mercanti e di ogni cittadino. In questo modo sorsero delle lotte forti, aspele, tra il comune cittadino e i feudatari delle campagne. Esse terminavano solo nel XII secolo con la quasi totale scomparsa del feudo. Ovviamente facciamo riferimento ad una caratteristica temporale e ben precisa che coincide con il superamento del sistema socio-politico-economico tipico dal Medioevo, ovvero del feudalesimo. Il feudalesimo lentamente e progressivamente compare, esaurisce la propria presa, il proprio potere. Incorporato insieme alle comunità rurali dal comune cittadino, le regioni finirono per fare capo economicamente e politicamente a una città. Il comune pertanto, almeno in Italia, diventava una sorta di piccolo stato, qualcosa di simile alle pole istre greche, una piccola comunità statuale fondata su una completa fusione tra il centro urbano e il territorio rurale circostante, il cosiddetto contato, cosa che invece noi non riscontriamo, non troviamo, non avviene mai nei comuni d'Oltra, cioè nei comuni europei, del continente europeo. È una peculiarità del territorio italiano, della penisola italiana. Al di fuori, infatti, dell'Italia, i comuni lasciarono il contatto nelle mani dei signori feudali, mantenendo il centro urbano nettamente distinto dalla campagna. Infrangendo il terra, poi dove si formarono regni nazionali piuttosto forti, dal XIII secolo in poi, i comuni, pur godendo di autonomia amministrativa e giudiziaria, restarono politicamente organi di uno stato territoriale più basso e dunque non assursero mai a quella dimensione, diciamo, politica, autonoma, indipendente, che invece assurtero, che è vero, in Italia. Poi noi dobbiamo distinguere tra tre tipi di comuni. Abbiamo il comune consolare, di cui parleremo, il comune potestarile e, infine, il comune popolare. Queste tre distinzioni, consolare, potestarile e popolare, fanno riferimento a una particolare tipologia di gestione della guida politica del comune, della leadership politica, alla forma di governo tipica del comune. Infatti, mentre il comune al suo nascerebbe un carattere nettamente, rettamente, eminentemente aristocratico, per cui la direzione politica della vita pubblica era nelle mani della novità, fino al XII secolo il potere esecutivo del comune venne esercitato dai consoli. Per questo parliamo di comune consolare, comune cioè guidato da consoli, che potevano essere da due a venti e che venivano scelti per i cittadini più in vista all'interno del comune riguardo alla nobiltà e alla ricchezza. La carica consolare aveva la durata di sei mesi o un anno e prevedeva, contemplava, l'esercizio di molti compiti, tra quali amministrare la giustizia, gestire le finanze, dichiarare la guerra, stratificare la pace, stringere alleanze o stipulare trattati internazionali, nonché comandare la milizia cittadina, cioè il piccolo esercito a disposizione del comune.